Ciarina ancora in zona a Pillito con il colpo di testa, buono per Araguese l'intenzione, cambiamo il Principe, entra in area e solo, in tiro e gol, goal, 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 goal! Il Principe! Il Principe! Il Principe! Il Principe! Il Principe! Interim per dentro! Interim per dentro! 35! Interim per dentro! Lassi di Wesley! E' il Principe! Il Quinto Champions League! Diego Milito! 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 Iniziamo anche noi! Milito! Forza ragazzi! Piccolo problema per Wesley che si fa aiutare nella casa e OurWeb invita a riprendere rapidamente Ragazzi abbiamo fatto un gol al finale e fanno festeggiare! E' il primo gol che fa in finale! Guardate il colpo morbido! Da lì c'è chi non lo sbaglia! E' il Principe Milito!